A San Benedetto stiamo notando che la progressione dell'invasione del punteruolo va in direzione nord-sud, nel senso che c'è la zona sud della città che è meno colpita e quella nord, al confine con Gortammare, che progressivamente si va espandendo. Questa progressione ci deve preoccupare e quanto? La progressione, come tutte le progressioni di ogni organismo nocivo ai vegetali, è evidente che preoccupa, così come è evidente che qualunque insetto può avere una capacità di volo attivo attraverso la quale diffondersi ma può anche essere involontariamente trasferito da un punto all'altro attraverso l'attività umana, ad esempio, quindi in maniera assolutamente involontaria. Direi che in senso generale, non limitandoci a Gortammare e a San Benedetto, la progressione della diffusione di questo insetto in tre anni in questa regione è stata relativamente limitata. Oggi l'area infestata riunisce 15 comuni e se andiamo a confrontare i dati marchigiani con quelli di altre regioni, dopo tre anni dalla prima comparsa in altre regioni si avevano 100 comuni infestati o in alcuni casi anche un numero superiore. Per cui l'azione che è stata fatta sicuramente ha avuto ed ha una capacità di attenuazione del fenomeno della diffusione anche se non riesce ad evitarla in maniera completa. Quali sono le principali metodologie di cura e quanto incide la mancata prologa da parte del Ministero del permesso di usare alcuni prodotti fitosanitari, quindi chimici, che sarebbero vietati in base alle normative? Le possibilità di cura che si sono tecnicamente sviluppate nel tempo sono diverse, però in questa zona, nelle Marche, è stato sperimentato e adattuato sul territorio un approccio definito approccio integrato che ha come scopo il risanamento delle piante che sono infestate. Bisogna intervenire quando i sintomi sono ancora iniziali e sostanzialmente si agisce attraverso un mix di azioni meccaniche eseguite attraverso una forma di potatura denominata potatura sferica e una attività di sostanze che hanno attività insetticida. Dico sostanze in senso generale perché sono stati sperimentati i nematodi entomopatogeni che sono piccoli esseri vermiformi che hanno la capacità di invadere il corpo degli insetti, siano essi larvi o adulti, e quindi di distruggerlo. E si è visto quelle che sono le potenzialità di questo mezzo che può essere sempre impiegato sia in ambito pubblico sia in ambito privato. Mentre per quello che riguarda i prodotti fitosanitari, quelli che normalmente chiamiamo i prodotti chimici, ci sono delle forti limitazioni di legge, soprattutto in ambito pubblico, e direi che ad oggi non esiste alcuna molecola che è possibile applicare in ambito pubblico per completare l'opera di risanamento iniziata attraverso la potatura meccanica. Questo inconveniente della mancanza di molecole disponibili ovviamente si riverbere e si ripercuote anche nei confronti delle attività di prevenzione dove ugualmente non possono essere utilizzate ad oggi sostanze chimiche di sintesi. Ci si augura ovviamente che nel tempo e con le dovute garanzie e le dovute sicurezze da un punto di vista della sanità umana e dell'ambiente che vengano registrati dei prodotti utilizzabili nei confronti della lotta al punteruolo rosso. E comunque sin dalla comunità europea è stato in qualche modo approvato ed interpretato quello che viene definito un approccio integrato, cioè l'insieme di più misure di natura diversa che coesistano sullo stesso territorio per avere il miglior risultato possibile. Quindi benvenga la chimica nel momento in cui sarà disponibile ma dobbiamo integrarla con tutte quante le altre risorse e disponibilità che ci sono. Ai cittadini proprietari di Palme cosa dite e cosa prevede anche la nuova normativa regionale di cui parlavamo prima? Ai cittadini proprietari di Palme come sempre consigliamo di intervenire il prima possibile perché c'è una doppia finalità. Da una parte qualora tentino il risanamento le percentuali di effettivo risanamento sono più elevate se l'intervento è ai primi sintomi e calano notevolmente quando i sintomi sono più avanzati. Dall'altra che contemporaneamente intervenendo sulla propria palma fanno bene alla collettività perché da quella palma con le otteri non voleranno più punteruoli che potranno andare ad infestare nuove altre palme. Per cui preservano un patrimonio collettivo che è in parte pubblico e in parte privato anche attraverso la propria azione. Voi potete ingiungere di curare o abbattere la pianta malata? Noi ormai da più di tre anni ingiungiamo a ogni singolo proprietario con un atto amministrativo all'interno del quale è prevista sia l'ipotesi di risanamento sia l'ipotesi di abbattimento. E' poi il cittadino che sceglie quale via perseguire. Elemento sicuramente negativo è che i costi sono a carico del cittadino ma in questo le diverse municipalità si sono adoperate per cercare di ridurre il più possibile quelli che sono i gravami ai costi per il cittadino che ha una o più palme infestate. I sintomi più appariscenti, quelli proprio iniziali, quali sono? Quelli iniziali purtroppo non sono i più appariscenti. Dobbiamo dire che all'inizio gli indicatori non sono così evidenti. Bisogna guardare molto bene la palma dal basso e verificare se ci sono per esempio soprattutto a livello della zona centrale laddove c'è l'emissione delle foglie delle foglie che si appoggino le une sulle altre. Questo vuol dire che a livello del picciolo c'è stata un'erosione da parte dell'insetto e che quindi la foglia tende a cadere, ad appoggiarsi su quella immediatamente sottostante. Ci sono anche altri sintomi ancora un pochino meno marcati che si possono osservare e sono quelli di una rosura di una parte delle singole foglioline allungate all'interno di una foglia parliamo della fenix canariensis ovviamente, quindi una pianta con foglie molto lunghe formate da tante piccole foglioline sottili. E una parziale quindi asportazione del tessuto fogliare ci dà un indicatore. Successi subito dopo l'altro indicatore è quello della simmetria della chioma cioè la chioma perde quella che è la sua simmetria bilaterale o meglio circonferenza e quindi a 360 gradi andando ad avere una zona di chioma più densa ed una leggermente che ha perso la sua normale densità e comportamento. Grazie a tutti.